Buongiorno a tutti, sono il dottor Costa, direttore sanitario dell'UGR di Curtatone, periodico aggiornamento sia interno che esterno, assolutamente siamo in un momento di vaccinazione contro il Covid a tutto campo, con venerdì abbiamo terminato le vaccinazioni degli ospiti con la terza dose Covid per l'RSA e nello stesso momento abbiamo cominciato le vaccinazioni per i nostri operatori che termineranno con i primi di novembre, continuo a promuovere assolutamente la vaccinazione anti-Covid anche perché i numeri per quel che riguarda anche semplicemente gli operatori sanitari non sono bellissimi anche perché nell'ultimo mese siamo arrivati a 1.400 operatori sanitari positivi anche dopo ciclo vaccinale, quindi assolutamente continuiamo a promuovere la vaccinazione e la terza dose assolutamente per tutti gli operatori sanitari perché all'inizio della pandemia abbiamo raggiunto quasi 150.000 operatori sanitari. Quindi assolutamente si continuano in questa direzione, il nostro obiettivo è quello naturalmente per i nostri ospiti di aumentare un minimo le libertà, vaccinandoli con la terza dose speriamo un minimo di aprire queste maglie e di riuscire magari a farle andare al domicilio anche solo per una giornata, noi stiamo veramente cercando di lottare in quella direzione perché tanti ospiti ce lo stanno chiedendo, però ovviamente si va con i piedi di piombo, quindi cerchiamo di lasciare un minimo di libertà quando riusciamo però ad avere una maggiore sicurezza, quindi continuiamo in questa direzione, speranzosi di avere dati ancora positivi nei prossimi mesi.